Ehi, lasciatemi andare! Non ho fatto niente di male! Questo lo vedremo! Svuota le tasche! Ma non c'è niente dentro! Ho detto svuotale! Che stai facendo? Smettila subito! Rimettimi giù! Ma che problemi hai? Le caramelle non sono permesse in questa stazione di polizia, quindi andrai in prigione! È un errore! Nessun errore! Sei colpevole! Ti confisco le caramelle! È ora di guardare il mio programma televisivo preferito! Non voglio andare in prigione! Non è giusto! Non è colpa mia! Siamo i dolci! Chi è? Ciao! Sono Mr. Light! Sono qui per aiutarti! Shhh! Hai detto che ti piacciono i dolci! Allora ti piacerà questa mela! È per me! Buongiorno, collega! Non è mai un buongiorno! Andrà tutto bene! È ora di mangiare questa dolce mela! Un'ottimo cosa! Che stai guardando? Hai qualche problema? Vuoi una mela? Stai parlando con me? Ehi là! Beh, questo sì che è strano! Sono così contento! Mi chiamo Steve! Aspetta! Impariamo un nuovo saluto! Un attimo! Ce l'ho quasi fatta! Stai bene? Ce l'abbiamo fatta! Sono qui per un'ispezione! Riferite la situazione, prego! È tutto sotto controllo, signore! Ne siete sicure? Sì, signore! Allora qual è la sua opinione? È tutto in ordine, signore! Bene! Un attimo! Mi sentivo così solo qui! È una mela quella che vedo! Ops! Devo sbarazzarmi delle prove! Ora è tutto chiaro! Diventeremo migliori amici! Cosa? Oh! Ti tengo d'occhio! Mi ha spaventato! Anche a me! Avete dimenticato che le mele non sono ammesse in questa prigione? È stata opera tua? No, signore! Hai dato tu una mela al prigioniere? Guardi ora un MacBook! Ti do un severo avvertimento! Questo non dovrà accadere mai più! Questa stazione è un vero disastro! È solo colpa tua! Non sono stata io! Beh, lo scoprirò! Ascoltate! Sono così affamata in questo momento che il mio stomaco sta brontolando! Ti presento il mio amico Billy! Billy saluta! Ciao! Andiamo! Ma che succede? Vedo che hai tanta fame! È ora di pranzo! Cibo di carta! Ma che schifo! Non mi importa! Mangerai fino all'ultimo boccone! Non è possibile! È disgustoso! Billy, non guardare! Non puoi costringermi! Smettila di scherzare con i detenuti! Ritorna al tuo posto! Grazie per l'aiuto! Questo è per te! Che lecca lecca enorme! Questo sarà il nostro piccolo segreto! A fare fatto! Non vedo l'ora di provarlo! Wow! È così bello! È fantastico! È delizioso! È delizioso! Sembra delizioso! Anche io e Billy vogliamo assaggiarlo! Mi dispiace! Non c'è rimasto più niente! Il mondo è così crudele! Il mio cuore ha spezzato! Non siate tristi! Ho un piano! Steve! Devo dirti una cosa! Aiutami a scappare! Non posso! Billy! Dovremmo aiutarla! Beh, facciamolo! Allora sì! Fantastico! Possiamo fuggire solo attraverso il condotto! Tieni duro! Passami Billy! Ecco! Oh no! I poliziotti ci prenderanno! Che programma televisivo divertente! Steve! Stai bene? Tutto bene! Come faccio a portarti lì dentro? Sali sulla mia schiena! Ti darò una spinta verso l'alto! Andiamo! È stata dura! Ora dobbiamo chiudere il portello! Non sono mai stato qui! Quasi dimenticavo Billy! Sono riuscita a scappare dalla prigione! Ma qui si sta un po' stretti! Guardate quante ragnatele! Che schifo! È così disgustoso! Un attimo! Forse questo ragno può aiutarmi! Forza! Mordimi! Perché fa così male? Ora posso sparare i ragnatele! Ragnatele vai! Non ha funzionato! È stata un'idea stupida! Devo continuare a muovermi! Che ci sarà laggiù? Stanno ancora guardando i loro programmi preferiti! Sarò molto più furba di loro! Ho imparato a fare il giocaliere ma ora ho sete! Oh no! Ho finito l'acqua! Devo prenderne altra! Per fortuna c'è un rubinetto nella mia cella! Ehi! Dov'è finita tutta l'acqua? Oh giusto! Dimenticavo! Devo girare questo! Ora dovrebbe funzionare! La libertà è così vicina! Cos'è questo rumore? Aiuto! Le tartarughe ninja! Le tartarughe ninja sono parti! Ehi! Chi ha chiuso l'acqua? Oh eccomi! Ops! Siamo delle piccole tartarughe ninja! La stai cantando male! Forza! Torna in cella! Non è che avete perso qualcuno? Come fanno i vostri detenuti a scappare sotto il vostro naso? Siete tutte licenziate! Dove pensavi di andare? Da nessuna parte! Volevo solo far prendere un po' d'aria alla cella! Va tutto bene! C'è un sacco di aria fresca ora! Stai allerta! Ti tengo d'occhio! Ci hai incastrate! Oh! Fa male! Lasciatemi andare! Torna in cella! Perché che vuoi farmi? Prenderò tutte le precauzioni necessarie! Così non scapperai più! Billy, non guardare! È troppo orribile! Stai zitto! E non fare rumore! Se n'è andata! Devo scappare! Non riesco nemmeno a muovermi! Non c'è speranza! Povera ragazza! Bisogna di aiuto! Huggy, devi togliere quel peso dalla gamba della prigioniera! Capito! Sto arrivando! Chi stavi chiamando? Sputa il rospo! Nessuno! Era una chiamata sbagliata! Ciao a tutti! Sono io, Huggy Wuggy! Ho un pacco per la prigioniera! Dammelo! Devo controllarlo! Ehi! Ho qualcosa per te! Cos'è? È una chiave! Con questa puoi togliere quel peso! Prendila! Devo avvicinarmi un po' di più! Solo un po' di più! Non riesco a raggiungerla! Steve! Per favore, prendi la chiave! Cosa? Non c'è problema! Torna subito! La modalità silenziosa è attiva! Presa! La chiave è mia! Questa è una torta! Quante volte devo ritenerlo? Non sono ammessi dolci! Fuori di qui! Me ne vado! Luci spente! Tutti a letto! Spegnete le luci! Dormi bene, Billy! Ti auguro di sognare un orsacchiatto di peluche! E io! Non posso neanche sdraiarmi sul letto! Credo che dormirò seduta! Sono esausta! Non disturbatemi fino a domani mattina! Tutto è in regola! Grazie per l'aiuto! Ho fatto la mia parte! Ora posso dormire in pace! Ehi, Steve! Ti serve la chiave? Ecco a te! Finalmente è mia! Ora posso togliere questo stupido peso! La mia gamba è intorpidita! Battugliano, torna! Oh no! Nascondiamoci! È il momento dell'ispezione! Miss Circle sta dormendo! Niente caramelle! I dolci non sono ammessi! Capito! Vado a controllare Miss Delight! È stato inquietante! Come stanno i nostri detenuti? Che cos'è questo? I peluche sono vietati! Billy! Bene, ecco a te! Che cos'è? Stai bene con gli abiti della prigione? Ancora un controllo! Aspetta un attimo! Dov'è la gamba del prigioniero? Sorpresa! Prendi questo! Ecco a te! Ora sono io la direttrice! Fammi uscire! Neanche per sogno! Sei in arresto! Siediti in cella e rifletti sul tuo comportamento! Non riesco a muovermi! Non è un problema mio! Ti abituerai! Voglio essere libero! Aiutami! Sei troppo rumoroso! Devo farti stare zitto! Prendi questo! Che stai facendo? Buon soggiorno! Sì, vandiamo! Cosa? Vengo con te! È ora di andarsene per dente! Tornate indietro! Non lasciatemi qui! Fai silenzio! Abbiamo quasi fatto! È una fuga! Ha una pistola! Rimanete tutti al vostro posto! Ehi là! Non mi sfuggirete! Signore, quali sono i suoi ordini? C'è stato un errore! Questo detenuto deve essere rilasciato! Ecco la sua cartella! Lascio cadere tutte le accuse! Ti devo un favore! State fermi! Ne ho abbastanza di idee! Ha abboccato all'amo! Stai infrangiando le regole della peggione! A lei! Signore, quali sono gli ordini? Lasci che l'aiuti! Fermali! Siamo stati scoperti! Corri! Fermatevi! Tornate nella vostra cella! Sto per dare l'allarme! Che succede? Sono pronta a catturare i criminali! Allora fai il tuo lavoro! Non colpitemi! Li ho presi! Entra! Rimarrete qui per molto tempo! Il nostro piano è fallito! Non piangere, Billy! 44! Basta così! Sono distrutta! Tieni lì d'occhio! D'accordo! È ora di fare la ronda! Che confusione! Ve la siete cercata! Sto tenendo da questa parte! Aiuto! Non è un mio problema! Sono fuori dalla vista! Scendete subito dal letto! Non voglio! Non era una richiesta e non lo dirò due volte! Non ti muovere! Che stai facendo? Non ti è permesso uscire da questo cerchio! Che assurdità è questa? Mi fa male! Con questo travestimento non sarai mai una spia! Dov'è andato? Bene! Prenderò il suo stupido orso! Tu resta qui! Che ti stanno facendo? I prigionieri hanno bisogno di disciplina! Fate attenzione! Qualcuno mi sta chiamando! Pronto? Hai una nuova missione! Devi catturare Catnap! Lo farò! Tieni lì d'occhio! Devo andare! Finalmente sono qui da sola! Ragazzi! Prendete questo! Povero Billy! Oh ehi! È una gomma da cancellare! Ora ti libero! Presto staremo di nuovo insieme! Mi sei mancato così tanto! Ups! Me ne ero quasi dimenticato! Farò uscire anche te! Please! Evviva! Possiamo muoverci di nuovo! È fantastico! Ho un'idea! Chiediamo a Miss Delight di farci uscire da qui! Miss Delight, per favore! Ci liberi! Mi è rimasto solo un teletrasporto! Capito! Risolviamo la questione da tutti! Sasso, carta, forbici! Ho vinto! Mi dispiace! Porta Billy con te! Ok, va bene! Mi mancherai! Sono pronta! Buon viaggio! Oh, pizzicatemi! Oh, per me! Ma dove sono? Catnap è sulla copertina! C'è qualcuno qui! Oh, Pee 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 Pig! Gli Smiling Creators sono dappertutto! Sono finita a casa loro! Sono tutti adorabili, ovviamente! Ma il mio preferito assoluto è... Catnap! Voglio essere come te! Boo! Oh! Sei tu! Catnap! La creatura più bella della Terra! Che carina! Stavi guardando il mio poster? Io voglio essere come te! Non credo sia possibile! Niente è impossibile! Per essere un vero Catnap, dovresti saper affilare i tuoi artigli sul divano! Se solo avessi delle orecchie come le tue e una pancia di peluche... Oh, va bene! Hai vinto tu! Urrà! 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 A quale creatura vuoi assomigliare? A te, ovviamente! A me! Sì! Orecchie, pelliccia viola, acciondolo a forma di mezzaluna! Ah! Acceso! Mistico! Cominciamo dall'acconciatura! Non hai un buon odore! Ops! Mi dispiace! Ci penso subito! Sembra che Anna non si pettini da un po'! Oh! Che dolore! Oh, scusa! Stai bene? Sopravviverò! Ricorda, tutti i gatti acconciano la loro pelliccia con la lingua, così! Oh! Solo lingua e bava? Forse hai bisogno di un po' di pratica! Dovrò intervenire! Siedici! Proviamo questo! Dopotutto, ciò di cui abbiamo bisogno è un po' di magia pelina! Wow! Fatto! Ti piace? L'acconciatura è fantastica! Grazie, Catnap! La prossima volta saltiamo gli esperimenti con il pettine! Oh! Sono sveglio! Ma che è stato? Oh! Dov'è Anna? Non c'è nessuno nella stanza! Una macchia al suo posto! Anna! Dove diavolo è finita? Non può abbandonare le pulizie! Qui non c'è nessuno! È una specie di magia! Ma dove diavolo è finita? Un ciuffo di pelo viola! A chi appartirà? Ragazzi, commentate qui sotto di chi è questa pelliccia! L'enigma del secolo, davvero! Guarda e impara! Ok! Questa sì che è una masterclass! Bene! È ora di vestirsi! Sfilata di moda! Ci sto! Qui è dove teniamo i nostri costumi! Wow! Quanta roba! Una scatola da sogno! Un costume da coniglio? No! Piggy? Non lo voglio! Ci sono così tanti costumi e nessuno ha quello giusto! E adesso che facciamo? Immagino che dovremmo rinunciare all'idea! Oh! Per favore! Non si tratta di quello che indossi, ma... Di quanto sei curata! Saggezza da gatto! Ecco a te! Questo sì che è un colpo di scena! Non ti annoierai mai con un gatto, vero? Ecco qua! Una pelliccia! E adesso che ci faccio? Cuciti un costume! È una macchina da cucire! Ah! Un po' di fai da te! Alla maniera di catnap! Oh! È pesante! Non potevamo comprarlo un costume invece di sputarlo? Beh, una domanda che non avrà mai risposta! Per fortuna che so fucire! Ma che cosa ne verrà fuori? La nonna era una sarta e sarebbe stata orgogliosa di me! Miau! Bel gatto! Oh! Sembra che il mio ciondolo non si sia ancora sistemato! Trucco? Oh! È facile! È ora di darsi un po' al trucco! Sai qualcosa a proposito del make-up? In realtà no! Chiamerò una professionista! Sì! Cotton Up! Ho bisogno del tuo aiuto! Nessun problema! Ci penso io! Tesoro è solo un momento! Mommy Long Lanks ha un magico kit di trucco con tutto il necessario per il make-up! Sei tu, Cotton Up? Stai invadendo il mio spazio personale! E che abbiamo sulla sedia oggi? Oh! Iniziamo! Questa no! Pennello! Il tono della pelle deve essere uniforme! È giù! Oh! Oh! E le palpebre devono essere vibranti! Prepariamoci Cotton Up! Abbiamo bisogno di un bel naso da gattino! E non basta! Dispositivo di tortura! Ciglia bellissime! Wow! Mettete più like, amici! Ottimo lavoro! Che ne dici? Sei soddisfatta? Il mio lavoro qui è finito! Sei di nuovo tu! Questa è pazzia! Adoro lavorare da remoto! Ma che cos'era? Un nuovo servizio di somministrazione di terapie d'urto? Beh, dai, mocio! Fammi vedere le meraviglie della tecnologia! Avrei dovuto guardare il tutorial su YouTube prima di tentare questo! Ma che ostinata! Io non mi arrendo! Oh, l'aspirapolvere! Mi chiedo se sarai in grado di gestire questa macchia! Oh, non mi ha mai deluso finora! Ma si trattava solo di polvere! Questa invece è una macchia! Oh! Ai! Ecco dove spariscono sempre i miei calzini! Meglio assumere un servizio di pulizia! Ora siamo in due! È bello avere qualcuno con cui giocare! Oh no, mia cara! Come farò senza questo gommitolo? Fai un sonnellino, non te la prendere! Il mio ciondolo! Fumo soporifero! Il nuovo compito! Interessante! Cosa? Forza! Prova un po' di lavanda! È deliziosa! Che schifo! Così! Mettila in bocca e masticala! Così! Non sembra commestibile! Che schifo, amici! Ricordate di non mangiare mai le piante crude! Non è vero! Allora che ne dici del succo di lavanda? Pravalo! Succo! Già va meglio! Questo non lo rifiuto! Oh, appetitoso! Gustoso! Oh, che strane sensazioni! Ma che succede? Un segnale di fumo per i microbi? Aspetta, ho un'idea! Miglioriamo il succo con le bollicine della Coca-Cola! Uno strano espediente, ma... Ops! Oh, una studentessa molto capace! Svegliati! Forza, catnap! Catnap! Catnap, che facciamo? Oh, ho un'idea! I gatti sono terrorizzati dall'acqua! Oh, mamma! Che cos'è quest'acqua terribile? Sei una ragazzina ingrata! Scusa, volevo solo svegliarti! Beh, ha funzionato! Oh, ok! Cosa? Un altro compito? Ciondolo! È ora di fare l'impossibile! Rubbiamo la luna! Per questo avremo bisogno di una scala! Oh! Ti aiuto! Ok, prendila da dietro! Fermati! Punto perfetto! E ora aiutami! Così! Questo sarà il più grande furto di... Ops! Di un corpo celeste! Il Capitano Catonappa è in missione! Capitano! La sosterrà da qui! Che avventura interessante! E quante piccole stelle! E ecco il nostro obiettivo principale! Quanto è bella! Anna! Prendila! La luna è mia! Che bella! Ops! Come ho fatto a dimenticarmene? Sono un gatto! E ho paura delle altezze! Oh! Che paura! Oh no! Catnab! Gattino! Vieni da me! Avanti! Ti aiuto! Qualcuno ci aiuti! Aiutate il gatto a scendere da lì! Sono arrivati i soccorsi! Mi ha spaventato! Presto faccia scendere il gatto! La prego! Ce ne occuperemo in un attimo! È proprio spaventoso! Gattino ti salverò! Vieni tra le braccia dello zio! Bene! Un altro gatto è stato salvato! Sei il nostro eroe! Grazie! Abbi cura di te! Abbiamo la luna! Esattamente! E ora dobbiamo solo rimpicciolirla! Fatto! Wow! Ci ha voluto poco! Indossalo! Ti sta bene! Uh-huh! Ops! Un altro messaggio! Non posso crederci! Ora sono una vera Catnab! Grazie amico! Congratulazioni! Finalmente il mio sogno si è avverato! E sono diventata una di loro! Ehi! Smiley Creatures! Catnab! Ho un piccolo regalo per te! Davvero? Per me? E che c'è qui dentro? Sono così curiosa! I gatti amano molto le scatole! E... Cosa? Un gomitolo? Wow! Ti piace? Un gomitolo viola è un sogno! Sapevo che ti avrebbe reso felice, amico gatto! Scatole e fili la nostra passione! Lo sanno tutti! Shhh! Non c'è nessuno in giro! C'è così tanta roba qui! Troveremo di sicuro qualcosa di bello! Oh sì! Siamo nel posto giusto! Guarda l'orologio sul muro! Probabilmente vale molto! Sì! Levalo! Oh oh! Abbiamo aspiti? Oh! Esattamente! Siamo gatti da guardia! Il ciondolo ha qualcosa che non va! Oh! Casa dolce casa! Oh! Mi mancherai! Anche tu! Ciao! Addio! Oh! È stato divertente stare insieme! Beh, almeno ho ancora il gomitolo! Questa macchia non viene via con niente! Che tristezza! Oh! Entriamo di nascosto! Ma certo, fratello! Oh! Non siamo soli! Voi chi siete? Legalo, Taylor! Ora vediamo quali oggetti di valore abbiamo qui! Sì! Controlliamo anche la scrivania! Siete anche qui! Papà! Ehi, figliola! Aspettate un attimo! Mi occuperò di loro! Va bene! Oh! Oh! Ora è definitivamente finita per voi! Papà! La smetti di fare il pirichino? Non lo farò più! Te lo prometto! Però ora slegami! Lascia che ti abbracci! Papà! È ora di andarsene! Che gattini paurosi! Andate lontano! Non stiamo dormendo! Sembra di no! I miei topolini in gabbia! Non scapperete da me! Benvenuti nel mondo degli incubi eterni! Oh! Questo interno non è un granché! Oh! Ora va molto meglio! Prigione mia! Regole mie! È ora di andarsene! Abbiamo bisogno di un piano! Chiamiamolo Freedom One! Tu sarai il cervello! Avanti pensa! Scaveremo un tunnel con dei cucchiai! Ci vorranno un paio d'anni! D'accordo? Sì! Poi faremo una corda con delle lenzuola e... Ci arrampicheremo sulla scogliera! Esattamente! Hai! Ma guarda dove vai! Topo! È enorme! Allontanalo da me! Cosa? Non ti farà del male! Guarda quei denti! Ho un'idea! E il nostro piano? Non importa! Ne ho uno nuovo! Come stanno i miei prigionieri? Tormono così dolcemente! Ottimo lavoro! C'è odore di cibo! Un topolino! È arrivata la colazione! Ehi! Non correre! Facciamo conoscenza! Ho del formaggio con me! Ha funzionato! Ehi! Taylor! Alzati! Se n'è andata! Sei un genio! Certo! L'intelligenza è il potere! Dammi il cinque! Oh! La mia mano! No amico! È la forza dei miei muscoli! Guarda qua! Oh! Sono diventato debole e illutile! Avete bisogno di fare il pieno di energia! Venite da papà! Sinistro-destro! Uno-due! Aspetta! Ancora un paio di serie! Ma che stai facendo? Questo allenamento è più potente di quanto sembri! Sei incorreggibile! Guarda! Quelle sono le chiavi! Aprono la porta! Non serve piegare in metallo! Forse sarà questa? Aspetta! Non aprirla! Sto arrivando! Ehi, gabbia! Preparati ad essere sconfitta! Wow! È forte! Ehi, arrenditi! Mike riderà di me! Che stai facendo? Continui ad allenarti? Mi arrendo! Non l'hai aperta! Vedi, era semplice! Volete un topolino? No, grazie! Non abbiamo fame! Buon divertimento! Grazie! Sì, il nostro orla ha paura dei topi! Perché il nerd non ha paura? Lo scopriremo subito! Dai! È stato un sogno! Taylor, svegliati! Topi! Solo topi! Lasciatemi in pace! Vedi quello che vedo io? Sì, lo vedo! Latte! Bene! Me ne ero completamente dimenticata! Delizioso! Beh, che avete da fissare! Non start negli impiani! Fai tinta che siamo impegnati! Alleniamoci! Il mio libro preferito! Ottimo lavoro! Divertitevi! Canberra è la capitale dell'Australia! Oh, basta con questa storia! Abbiamo bisogno di un nuovo piano! Il tuo papillon! Ho un'idea! Nell'universo ci sono così tanti tipi di latte! Ma io ho provato solo quello di mucca! Oh, la creatura è meravigliosa! Dove te ne vai? Mica a mordo! Fermati! Continua a muoverlo! Io ora apro le sbarre! Perché non scappare? Ci divertiremo insieme, birichina! Andiamo! Oh, che bel pesce! Spero che l'esca tenga! Sì, sì, sto arrivando! Mike, muoviti! Il gatto prenderà l'esca da un momento all'altro! Dammi un secondo! Troppi tasti! Oh, sante teorie delle probabilità! Fammi aprire questa porta! Sì, ce l'ho fatta! Piccola, dove vai? Comportati bene, apparefatto! Smettila o ci sentiranno! Oh, no! Un cane? Basta, siamo morti! Volete spaventarmi con quello? Giopi è la creatura più spaventosa del pianeta! Ah, sì, è a baglia! Scappa! Non avevamo pianificato di scappare, ma è successo e... Il prossimo! Va bene, ho capito, ok! No, così non vale! Prendi la canna da pesca, giochiamo! Davvero? Amo la pesca! Un altro sogno spaventoso! Taylor non crederà mai a quello che ho appena! Taylor, ma che stai facendo? Oh, non ce la faccio più! È così divertente! Fermati, dove sei? Preso! Aiutami! Povero Taylor! Sembra esausto e sul punto di crollare! Devo distrarre il gatto, ma come? Fatemi pensare! Ho provato con i topi? Con i giocattoli? Ma certo! Ho bisogno di un profumo speciale! Amici, aiuto! Quale profumo può piacere a Catnap, Citronella, Menta o Lavanda? Scrivetelo nei commenti! Allora, dove sono gli indizi? Il suo vestito è viola e... Il micio preferisce sicuramente questo colore! Ma certo! La Lavanda! Troviamo! Oh, mi annoio più in fretta! Che profumino delizioso! Libertà! Era ora! Hai deciso di distrarmi dal mio divertimento! Era solo una pubblicità! Un profumo alla Lavanda leggero e delicato ad un solo dollaro! Oh, mi è convinta! Oh! Ora sono allergico alla pesca! Ti è accaduta questa? Continua! No, questo no! Risparmiami, per favore! Il mio papillon è ricoperto di pelliccia! E ora, senti Lavanda! Ridammela subito! Ti sei messa nei guai, prendi questo! Mi dispiace, fratello! Non posso aiutarti! Cutnap! Ho dormito benissimo! Ma ora tocca a te! Jocelyn! Sono felice di vederti! Questa è la mia prigione! Quelli sono i miei prigionieri! Come osi presentarti qui! Dormi! Mi sono preparata per la battaglia finale! Dovrai avere paura! Solo un secondo! Non andrai da nessuna parte! Ora prendi questo! Intelligente! Non è giusto! Oh, massa sbagliata! Sei il mio idolo! Aiutatemi a togliere questo! Bella pistola! È stata una tua idea! Ne voglio una anch'io! Posso premere il pulsante! Ops! Cosa? Taylor, perché hai... Sono stato io! Copriamola almeno con una coperta perché se avesse freddo... Bene! Con calma! Ora torniamo in cella! Terza fuga della settimana! Siete in punizione! Sono così annoiata! Come stanno i ragazzi? Oh, chef! Salve! Ciao! Vi lascio soli! Ciao, ciao! Oh, bene, Taylor! Sei pronto? Certo! Facciamolo! Mi sono allenato per niente! Oh, oh! Questo è pesante! Oh, che odore disgustoso! Vuoi andare tu per primo? Bene! Yippee-yoo! Addio! Oh, ho della rugina in bocca! È divertente! Mi piace! Allora che c'è che non va? Mi sono fatta un brutto livido al braccio! Fammi vedere! Wow, non ha un bell'aspetto! Aspetta qui! Bene, dov'è la pomata? No, non è questa! Cosa? C'è qualcuno lì o me lo sono immaginato? Oh, è stato un atterraggio morbido! Urrà! Siamo fuori! Dottore, sta bene? No! È chiaro che non sta bene per niente! Avanti! Ehi, sei tu che sei caduto su di lui per primo! Quindi cerca di tenerlo tu! Vieni o no, dottore! C'è un'emergenza qui! Sembra che ci sia qualcuno nella stanza! Fai finta di essere un medico! Non ci andrò! No, invece lo farai! Brigati, metti l'accappatoio! Perché io? Muoviti avanti! Ma che devo dire? Ehi, là! Perché ci ha messo tanto? Oh, che schifo! Cos'è questa puzza? Oh, suppongo che venga da me! Hai portato la medicina? La medicina? Devo inventarmi qualcosa! Stai buono! Eccoti qui! Ti metto nell'armadio! Ma dove è andato? Oh, eccolo! È così pesante! Ce l'ho fatta! Sto arrivando! E queste come possono aiutarmi? Beh, dovrebbero essere utili! Vero, dottore? Silenzio! Sono io il vero dottore! Guarda che li hai fatto! Sparisci subito! Ora! Oh, è arrivato il medico serio! Ehi! Ma che c'è che non va? Alzati avanti! Stai fermo qui! Ecco fatto! Meno male! Dammi un secondo! Rimuoviamo tutto questo! È in vergina! Ok! Come ti senti? Molto meglio! Dammi la mano! Questo ceratto è miracoloso ed è il migliore! Oh, sento di nuovo quella puzza! Oh, che schifo! Questi sono per te! Fiori! Ma tu puzzi ancora! Oh, sembra si sia ripreso! Ciao ragazzo! Chi è il prossimo? Sono arrivato prima io! Oh, ho un appuntamento! Mi sono rotto un dito! Dottore! Apra! Avete visto? Eccolo! Mi faccia entrare! Io ho gli archigli! Ma che succede? Ragazzi! Oh no! Sono scappati! Ma come hanno fatto? Forse si sono nascosti sotto il letto! Va bene! Uscite immediatamente! Oh, questo non va bene! Si sono intrupolati nelle fogne! Che schifo e disgustoso! Forza! Amanda rispondi al telefono! Forse questo è sufficiente! Lasciami andare! Che posso scegliere? Le forbici sembrano un po' troppo! Questa non l'ho ancora provata! Oh! Scusami! Mi chiama qualcuno! Aspetterò! Bella famiglia e sacra, sai! Due prigionieri sono in fuga qui! Puoi ripetere? Sono scappati! Devi aiutarmi! Capito? Nessun problema! Bene ragazzi! Siete finiti! Continueremo più tardi perché io devo andare! Basta e me ne vado! A fare patto! Nel frattempo controllerò il mio feed di TikTok! Arrivo! Basta bussare! Oh! Ma chi era? Sporcizia? Perché così tanta sporcizia? Ehi! Smettila! Hai sentito? Riesci a sentirmi? Bene! Ora basta! Non mi prenderai! Non mi prenderai! Lyalyalyalala! E lyalyalyalala! Bambina! Fermati! Stai esagerando! Laviamo subito i tuoi piedi! Vieni qui! Oh! No! Io amo lo sporco! Fermati! Sarà meglio per te! Che sta succedendo qui? Ehi! Smettila! Non fare del mare alla bambina! Ma è tutta coperta di fango! Metti via quella a fare! Wow! Ti hai spaventata! Va tutto bene! Il cattivone se n'è andato! E io avere i piedi coperti di fango non va più in moda! Siediti! Lascia che ti aiuti! Wow! Cos'è? Ti faccio vedere! Oh! E indossiamoli! E ora la parte più divertente! Creiamo le bolle detergenti! Ci basterà versare della sprite nelle tue scarpette! E poi aggiungiamo delle mentos! Esatto! Ecco qui! E adesso ci sarà una reazione chimica vigorosa! Ti consiglio di mettere le scarpe! Giallo! È il mio colore preferito! Ecco fatto! Ora va molto meglio, vero? L'intera stanza è coperta di fango! Prendi lo straccio e vai a pulire! Ehi! Perché sempre io? Va bene! Ciao ciao dottore! Buona fortuna! Il prossimo! Vieni pure! Oh! Tocca a me! Togliti di mezzo! Mi fa male la gola! Ehi! Aspetta! Prendi questo! Tocca a te! Per favore vieni! Siediti! Allora, cosa ti preoccupa? Ho mal di gola! Lo immaginavo! Hai bisogno del vaccino anti-influenzale! Fammi scegliere una siringa! Voilà! No! Queste sono troppo piccole! Me ne serve una più grande! Ho trovato una soluzione! Questa andrà benone! Facciamo una prova! Una siringa così spaventosa! Ha dimenticato di indossare i guanti, dottore! Un attimo! Guanti? Come ho fatto a dimenticarmene? La siringa non è un giocattolo! Dammela! Non farà male! Che stai facendo? Hai perso la testa? Che siringa enorme! Dammela! Sobito! Bene! Qual è il tuo problema? Vediamo cosa dice il libro! Frattura del mignolo! Contusione del tallone! Sì! Spray per la gola! Al gusto di mela! Apri bene la bocca! Sono allergica alle droghe! Che tipo di droghe esattamente? Ogni droga! Tienilo lontano da me! Apri la bocca! Avanti! Ok, ho capito! Sei testata! Ascoltami! Riesci a fare questo? Dai, avanti! Provaci! Ho la voce più forte dell'universo! Ma che sta succedendo? Da dove vengono questi rumori? Cosa? La fine del mondo! Ho scelto il momento perfetto per andarmene! Mela! Non è poi così male! Per poco non diventavo assordo! Ma chi sta urlando? Chi ha bisogno di un'iniezione? Ancora tu! Vieni qua! Sei finito! Lasciami andare ora! Cosa? Volevo solo aiutare! È un tantino nervosa! Ancora? Vieni avanti! Dove ti fa male? Ah, ho capito! Il dente! Un secondo per favore! Ciao! Va bene, ho capito! Non spaventare la bambina! E tu vai lì! Avanti guarderemo il tuo dente! Siediti! Così! È ora di... Oh! Oh! Sorribili! È solo che adoro le caramelle! C'è una selezione per questo? Prendi uno spazzolino! Devi solo lavarti i denti! È molto importante! Altrimenti si ammaleranno di più! Non vuoi farlo? Il tuo piccolo Yoda ti aiuterà a piacere a tutti! Guarda che carino! È ora di... Oh! Ci siamo! Oh! Oh! Oh!